Contrari a qualsiasi pagamento di pedaggio sulla E45 in Umbria, Valerio Mancini, consigliere regionale della Lega Nord, puntualizza la posizione dei leghisti riguardo al ticket proposto che verrebbe obbligato ad autoarticolati provenienti da altre regioni lungo la E45 in Umbria. La posizione della Lega sulle E45 che prevede ogni forma di pagamento per la Lega Nord non esiste, è una struttura ovviamente che appartiene a tutti gli Umbri, è stata la prima arteria importante, lo Stato ha impiegato tantissime risorse pubbliche frutto delle tasse che ovviamente anche i cittadini Umbri, in particolar modo il nostro territorio produttivo che è l'Alto Tevere ha già in questi anni conferito allo Stato. Improprio e inopportuno ogni tentativo, secondo me anche allungato, di rintrodurre l'ipotesi che i TIR sopra 35 quintali possano attraversando il nostro territorio pagare, perché lo considero incostituzionale, non esiste nessun'altra arteria in Italia che io abbia conoscenza che preveda questo tipo di tassa. Ho ricordato in aula ieri l'altro, il primo di dicembre, che la Firenze e Pisa di Vorno, un'arteria importante che collega tre province importantissime dell'Umbria, non si paga nulla, neanche un centesimo. Lo ritenevo e lo ritengo fortemente penalizzante questa ipotesi per i territori di confine come l'Alto Tevere che interagisce molto con le Marche, la Toscana e la vicina di Mironomagna, e quindi sarebbe un ulteriore aggravio sia per le merci in uscita che per l'entrata, quindi una cosa per noi inaccettabile. Come ricordato in aula, l'E45 è stata, ed è sotto inchiesta da diverse procure, che hanno e stanno certificando, perlomeno così da sommari notizie di stampa, ma che molti lavori sono stati fatti in malo modo. Quindi innanzitutto la politica si prenda, cioè la politica che governa l'Italia, non sicuramente la Lega a questa parte, verifichi che gli appalti vengano eseguiti in maniera corretta, se ne stabilisca e se ne verifichi la qualità dei lavori, perché abbiamo avuto tratti delle 45 che nell'arco di una settimana sono di nuovo stati dichiarati del tutto rovinati.